Il conto alla rovescia in vista di Livorno-Avellino sta per terminare. Domani alle 11.30 i Lupi sosterranno la seduta di rifinitura a porte chiuse allo Stadio Partenio Lombardi, poi la partenza alla volta della Toscana. Oggi Biancoverdi hanno invece sostenuto la loro ultima seduta di allenamento settimanale, ritrovandosi così come è accaduto dallo scorso mercoledì in campo alle 12.30 per abituare fisicamente all'inusuale orario. La questione non solo di alimentazione, che è un aspetto tutt'altro che secondario, ma anche di un'altra miriade di aspetti di cui Rastelli e il suo staff, maniacali nella cura dei dettagli, hanno prontamente tenuto conto. È tornato ad allenarsi col gruppo Schiavonno, che però ha lavorato per tutta la settimana a ritmo ridotto in seguito al problema al polpaccio sinistro, accusato prima della gara interna col Frosinone. La sua disponibilità resta in dubbio. Si è fermato il portiere Bavena, per lui problemi muscolari, capitolo formazione e totomodulo. All'andata Rastelli optò per il 4-3-1-2, al culmine del consueto ed approfondito studio delle caratteristiche di un avversario che però, un girone fa, era un altro avversario. C'era Gautierin Panchina e non Gelain, c'erano gerarchie mutate con l'avvento del nuovo tecnico. I labbroni ci sono passati da uno spregiudicato 4-3-3 all'alternanza dei più equilibrati 3-4-1-2 e 3-5-2. Proprio quest'ultimo è il modulo di riferimento del lupo, momentaneamente accantonato nell'ultimo turno che potrebbe essere riproposto domenica, andando in linea teorica ad originare un confronto con atteggiamenti tattici speculari. Ma rinunciare al trequartista potrebbe non significare, necessariamente ed in ogni caso, privarsi del contributo di sbaffo tra gli assoluti protagonisti dell'ultima vittoria. L'ex Latina potrebbe trovare infatti posto da mezza alla sinistra, giocandosi una maglia con Conezzito, si vedrà. In fondo anche il 4-3-1-2 ha dimostrato di fornire garanzie più che ampi, a prescindere dello schieramento iniziale. L'Avellino ha palesemente acquisito la capacità, ora spiccata e affinata, di cambiare assetto in corso d'opera. Davanti a Gomis appare comunque scontato il ritorno indifferentemente dalla scelta di una linea 3-4 di Chiosa, reduci da un turno di squalifica. Regoli smaltita l'influenza, scalpita per riprendersi una maglia da titolare sulla corsia destra in attacco con Super Castaldo. Dovrebbe arrivare la conferma per Trotta, in vantaggio sul rientrante Comi. Il conto alla rovescia sta davvero per finire.